Con 6 milioni e 700 mila spettatori e il 28,6% di share, la replica dell'episodio, la giostra degli scambi, su Rai 1 ha battuto il reality su canale 5 visto da 3 milioni 231 mila con il 18,1% 2 aprile 2019 ancora un successo per il commissario Montalbano. La replica dell'episodio, la giostra degli scambi su Rai 1 è stato visto da 6 milioni 718 mila spettatori con il 28,6% di share, doppiando in termini di telespettatori la finale dell'isola dei famosi su canale 5 che si è dovuta accontentare di 3 milioni 231 mila spettatori e del 18,1% di share. In riproduzione Un caso complicato per il commissario di Vigata che trova comunque il tempo di dedicarsi alla famosa pasta, KN Casciata, che questa volta condivide con i suoi colleghi, Augello e Fazio, un pasto commentato sui social insieme ai complimenti per il cast e per Adelina. Il prossimo appuntamento con la primavera di Montalbano è per mercoledì 3 aprile con un covo di vipere sul caso di un imprenditore ucciso Guardando, la vedova dell'attore, amava quel personaggio come un figlio, di Giorgio Caruso Allora, arre, amava quel personaggio come un figlio, di Giorgio Caruso Guardando, le viss, vi attitudeclamati sulle protagonisti Guardando, i suoi, ve competitive Grazie a tutti.